È una giornata molto importante, molto importante per Trenitalia, ma molto importante in generale per la regione Marche. Abbiamo inaugurato un nuovo treno, uno swing, un treno diesel di ultima generazione, ma è solo l'inizio di un piano di investimenti che porterà in regione fino a 25 treni nuovi. Si è investito già con decisioni di anni fa e si è portato a termine l'investimento. L'importante è che le persone salgano sul treno, lo provino, capiscano toccandolo con mano tutto quello che stiamo facendo, lo sforzo che stiamo facendo perché dobbiamo spostarci tutti sempre di più in treno. Io sono convinto che chiunque verrà su questo treno lo proverà, capirà cosa voglio dire e ci ritroveremo mano a mano in futuro con più persone che avranno voglia, si divertiranno, saranno comode a viaggiare in treno. Parliamo anche di un trasporto che ci ha permesso nei mesi scorsi di far spostare le persone con grande sicurezza, quindi prendete il treno anche perché è sicuro. Un'unità importante per dare un servizio ulteriore e soprattutto perché è simbolicamente anche importante a dare una spedanza di ripresa e di ritorno alla normalità in questa fase così complicata e difficile. Stiamo progettando, si sta progettando il rilancio del nostro territorio anche dal punto di vista turistico, la riscoperta dei borghi, la riscoperta del nostro entroterra, un segnale verso anche le aree colpite dal sisma che così tanto hanno sofferto e che la pandemia non ha fatto altro che aggravare una situazione già che era molto pesante. Il nuovo protagonismo che va costruito passando anche e soprattutto per la mobilità perché la nostra è una regione che vive un po' un isolamento atavico da tanti anni ma la capacità di immaginare un'intermodalità tra ferrovie, autobus, aeroporti e strade e autostrade può essere sicuramente un'opportunità di rilancio e di vedere la nostra regione per essere vissuta in maniera diversa, di vedere la nostra regione protagonista anche sotto questo punto di vista.